Ciao amici di Italia Talk Games, martedì 10 maggio, buongiorno, buongiorno, oggi c'è una combo di regali davvero piacevole e interessante. Prima però fatemi dire che se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo subito, così ricevete tutte le notifiche, magari mettete le notifiche sia per la zona video, questa, e sia per la zona community dove arrivano notizie, arrivano offerte, arrivano tante cose interessanti. Se questo video, se il canale vi piace, volete contribuire al canale, c'è un nuovo tasto, vicino al tasto potete mettere mi piace al video, c'è un piccolo cuoricino con scritto super grazie, potete fare una piccola offerta per il canale, un modo davvero concreto e rapido per supportarci per il tempo, le energie, le risorse, perché oltre al canale abbiamo quattro siti internet, spazi hosting da comprare, eccetera, eccetera, grazie, grazie di cuore a chi lo farà. E a chi lo può fare, ovviamente, comunque il taglio minimo e il ringraziamento minimo è da 2 euro, quindi via, un paio di caffè al bar, anche meno. Comunque, detto tutto questo, andiamo a vedere tutte le novità di oggi, c'è, ripeto, una combo di regali interessanti, e vi dico pure che questa sera alle 20 faccio il debut in divisione 2, vediamo un po', mi tremano le gambe, vediamo come andrà, come andrà. Quindi alle 20 sul canale vi aspetto per giocare assieme la prima partita in divisione 2. Allora, cosa c'è di bello oggi in eFootball 2022? Lo andiamo subito a vedere, non appena finiscono i caricamenti, due doni, omaggi, piuttosto graditi, che vi arrivano se avete fatto tutti i giorni il login quotidiano. Ve lo dico sempre, entrate tutti i giorni, quando potete, ovviamente, dentro eFootball, anche se non potete giocare, perché, ad esempio, il bonus di accesso, la sequenza è sempre quella, ma se oggi io non fossi entrato, i 2.500 GP me li avrebbe dati domani, e quindi un giorno è bruciato senza bonus. Quindi fatelo sempre, 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 perché metti lì 2.500 GP, metti lì 200 punti, football, tutto fa brodo, come si suol dire. Allora, eccola qui, opening login campaign volume 2, io sono partito dal 5 maggio, e oggi, quindi dal primo giorno, contratto a 2 stelle, allenamenti, contratto a 3 stelle, allenamenti, contratto a 2 stelle, allenamenti. A me i contratti a 3 stelle e 2 mi interessano relativamente poco in questo momento, mentre invece gli allenamenti sono, per me, fondamentali, punti ESP. E poi, tacchete qua, ultimi, ultimi 50.000 GP in regalo della Startup Login Campaign volume 2. E quindi, come dire, 20.000 punti di allenamento e 50.000 GP sono davvero molto interessanti. Tra l'altro, un'ultima nota, intanto, ecco, intanto mi ritiro i premi, 50.000, 10.000 e 2.500 GP di bonus di eccesso. 20.000 punti ESP sono davvero oro. Tra l'altro, volevo dirvi un'altra cosa che è venuta fuori proprio in queste ultime ore. Konami ha aggiornato la lista dei problemi noti del gioco, ed ha aggiunto un fatto che i giocatori leggendari, come appunto stavamo vedendo Ronaldinho Maradona Figo, non hanno quelle animazioni, quelle movenze specifiche, ricordate ai tempi di PSI il player id, l'identità del giocatore, quello che faceva un po' la differenza a livello di animazioni e tutto quanto, beh, ha detto Konami che in questo momento non sono presenti. Saranno inserite, questo lo dice invece Renan Galvani, perché non è stato specificato da Konami, ma è probabile, magari con la stagione 2, tutti questi problemi segnalati, tra cui appunto quello del player id assente per i giocatori leggendari, saranno inseriti con un aggiornamento verso fine maggio, magari per la stagione 2, che oramai è agli sgoccioli, mancano 8 giorni, 19 ore, la settimana prossima, quindi c'è la stagione 2, speriamo che ci siano novità, come gli obiettivi, il pass season ed altre cose, perché ne parlerò venerdì a un mese dall'uscita di Dream Team, ci sono delle cose, tante cose da sistemare in Dream Team, anche se io mi ci sto divertendo parecchio. Va bene ragazzi, è tutto, grazie per l'attenzione, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, ve lo ripeto, iscrivetevi al canale, così siamo sempre di più, così ricevete le notifiche, non vi perdete nessuna novità, perché lo sapete che su Italia Top Games arriviamo sempre primi a darvi tutti gli aggiornamenti di football e poi tante altre cose, ieri ad esempio Tris di video di Formula 1 2022 in anteprima e tante, tante, tante altre cose. Appuntamento questa sera alle 20 con il debut di stagione 2, speriamo bene, ti fate per me e vi auguro una buonissima giornata, come sempre. Ciao!